Svelato dal sindaco di Padova insieme ai suoi omologhi di Rubano e Vigonza il progetto del sistema metropolitano a rete tramviaria sintetizzato SMART. È stato infatti presentato al Ministero delle Infrastrutture lo studio di fattibilità per la costruzione della terza linea del tram chiamata SIR2. Oggi è una giornata epocale per Padova. Oggi non abbiamo presentato una linea, abbiamo presentato un sistema di trasporto urbano molto diverso. Devo dire che sono stati bravissimi i tecnici nostri, sia a PES che i nostri consulenti. Sono stati liberi di scegliere, non abbiamo detto guardate fate questo perché politicamente ci va bene. Erano liberi di fare quello che volevano e hanno stabilito che questo sistema è migliore. Rapporto costi-benefici, trasporto. Questo vuol dire che cambia la città. Una rete di mobilità pubblica su cui potranno viaggiare fino a 20 milioni di persone all'anno stimano da Palazzo Moroni, riducendo emissioni di CO2 e volumi di traffico. Il cronoprogramma parla ora di un progetto esecutivo per poi passare alla realizzazione dei lavori. Nel progetto presentato il tram correrà per le vie cittadine nel 2026. Grazie a SIR2 e SIR3 inoltre la città disporrà di otto nuove linee di trasporto. Di 335 milioni che abbiamo appunto presentato al Ministero e che siamo molto fiduciosi che verrà finanziato, speriamo entro l'anno. Una rivoluzione per la città ma anche per i paesi della cintura padovana. Vuol dire sgravare di centinaia di migliaia di auto in ingresso e in uscita dalla città, vuol dire un'area più pulita, vuol dire finalmente pensare a un mezzo di trasporto innovativo. E soprattutto non è una semplice linea come sottolineavo, ma è un sistema di mobilità che cambia completamente, quindi non solo in un'unica direzione ma in più direzioni.